Dopo 5 giorni di agonia nel reparto di reanimazione, Nicky Hayden è morto. Il pilota è ispirato attorno alle 17.30 di lunedì. All'ospedale Bufalini di Cesena, in cui versava in gravissime condizioni, lo statunitense è raggiunto dagli inframmi di Rimini, immediatamente dopo l'incidente stradale di mercoledì 17 maggio. Questa è la sua ultima foto con la divisa da corsa in allenamento. Secondo un video di sorveglianza in possesso della polizia municipale di Riccione, la dinamica dell'investimento sarebbe piuttosto chiara. Kentucky Kid, così soprannominato dai tempi della militanza in Timonde in MotoGP, non avrebbe rispettato uno stop in sera alla sua bicicletta da corsa, con cuffiette indossate sulle orecchie ad un incrocio sulla strada statale Riccione-Tavoletto. Un trentenne di misano adriatico non ha potuto fare altro che travolgerlo con la propria peggio nera, come testimoniato da lui stesso alle autorità che indagano ed ora l'ipotesi di accusa nei suoi confronti passa da lesioni stradali a domicilio stradale. Il mondo sportivo si è stretto, con messaggi di cordoglio via social, alla famiglia del campione del mondo 2006 MotoGP, che ora sta sbrigando le pratiche per riportare la Sama del 35enne oltroceno per aprire la camera al dente. Un saluto amico mie e compagno, così si è espresso il romagnolo Andrea Dovizioso, sarai sempre nei nostri cuori e il ricordo di Lewis Hamilton, Marquez, Lorenzo, Melandri e Vignales si dicono tristi per quanto accaduto.